La seduta del 2 aprile Relazione 2013 del difensore civico Nella seduta del 2 aprile il Consiglio regionale ha affrontato un ampio dibattito sul ruolo del Senato come Camera di rappresentanza dei territori. Prima della seduta, in aula, il difensore civico regionale ha illustrato all'Assemblea la relazione sugli interventi svolti nel 2013. In primo piano Lungo e articolato dibattito nella seduta del 2 aprile sull'ordine del giorno con le proposte di riforma costituzionale presentate dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e Provincie Autonome e dalla Conferenza delle Regioni e Provincie Autonome. Il documento non posto in votazione ma comunque inviato alle conferenze delle Regioni si pone come contributo sulla riscrittura del titolo quinto della Costituzione e sulla riforma del Senato inteso come assemblea di rappresentanza dei territori e di raccordo tra tutte le istituzioni. Sono state 2315 le richieste di intervento giunte all'ufficio del difensore civico da parte di cittadini, associazioni e imprese per ottenere dalla pubblica amministrazione ciò che aspetta loro di diritto. Lo ha dichiarato il 2 aprile nell'Aula Consiliare il difensore civico regionale Antonio Caputo presentando all'Assemblea la relazione dell'attività svolta nel corso del 2013. Ancora una volta il maggior numero di richieste di intervento ha riguardato il delicato settore dei servizi alla persona e delle opposizioni alle dimissioni ospedaliere la previdenza sociale, l'assistenza pubblica e l'inquinamento ambientale, acustico ed elettromagnetico. In breve Viaggio studio del primo gruppo di vincitori della trentesima edizione del concorso per le scuole medie superiori Diventiamo Cittadini Europei organizzato dalla consulta regionale europea a Bruxelles dal primo al 3 aprile. Gli studenti hanno partecipato al Parlamento Europeo al gioco di ruolo parlamentarium e hanno visitato il Comitato Economico Sociale. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.